Bruno Gröning, io voglio solamente aiutare e guarire. La vita di Bruno Gröning, per bambini, giovani e adulti. Capitolo 9. Il ritorno alla casa del padre e il nuovo inizio. Nel novembre del 1958, Bruno Gröning andò a Parigi con la sua seconda moglie, la signora Josette, una francese che aveva sposato nel 1955, a farsi visitare da un amico medico, il dottor Pierre Gobon. Dal risultato di numerose radiografie, gli venne constatato un cancro allo stomaco in stadio avanzato. Il dottor Gobon avrebbe voluto operarlo subito, ma Bruno Gröning si rifiutò. Egli tornò in Germania, poiché doveva preparare ancora qualcosa di importante per le comunità. Dopodiché ritornò di nuovo a Parigi. Il suo cammino termina a Parigi. Il dottor Gobon aveva nel frattempo informato il dottor Belanger, rinomato oncologo. Nella sua clinica in Rue Henner, Bruno Gröning venne operato l'8 dicembre. L'esito fu per i medici terrificante. Era molto peggio di ciò che le radiografie avessero fatto supporre. Non c'era più niente da fare. La ferita venne subito ricucita. Con grande meraviglia dei medici, Bruno Gröning si ristabilì velocemente e ripartì per la Germania. Il 26 dicembre chiamò a sé alcuni dei suoi amici più stretti e tenne loro una conferenza. Nessuno di loro era a conoscenza di quanto stesse male e non lo lasciò trasparire. Verso la metà di gennaio del 1959, si incontrò per tre giorni interi con i capi della nuova associazione e stabilì come la sua opera avrebbe dovuto essere strutturata. I due non sospettarono che quello sarebbe stato il loro ultimo incontro con lui. Il 21 gennaio volò nuovamente a Parigi. Il 22 venne nuovamente operato. Alle ore nove del mattino, alla stessa ora in cui a Monaco cominciava l'udienza d'appello del suo processo, Bruno Gröning giaceva a Parigi sul tavolo operatorio. Egli dovette sopportare ciò che aveva risparmiato ad innumerevoli persone. Non poteva né doveva aiutare se stesso. Mentre in quel mattino egli giaceva sotto l'effetto dell'anestesia, su Parigi scoppiò un violento temporale. Lampi e tuoni ottenebrarono la chiara e serena luce del giorno. Diventò così scuro che si dovette accendere la luce. L'infermiera fu molto sorpresa di un così violento temporale. Nei giorni che seguirono l'operazione, Bruno Gröning si alzò ancora due volte per sedersi su una poltrona. Il 25 gennaio cadde in coma. Ed il giorno seguente, il 26 gennaio alle ore 13 e 46 minuti, Bruno Gröning morì nella clinica Enner a Parigi. Interiormente bruciato. Come causa del suo decesso, i medici individuarono il cancro. Ma il dottor Belanger, dopo la seconda operazione, aveva anche detto La distruzione nel corpo di Bruno è terribile. Internamente è totalmente bruciato. Come si è potuto vivere così a lungo e senza terribili dolori, resta per me un mistero. Successe così come Bruno Gröning aveva predetto. Se mi si proibirà di operare, io brucerò interiormente. Le continue persecuzioni, vietandogli di operare, il processo mai conclusosi completamente, il persistere della cattiveria e della malignità dei suoi ex collaboratori e la ristrettezza di vedute di alcuni amici. Tutto questo contribuì affinché quest'uomo, che aveva liberato innumerevoli persone dai loro dolori e dalle loro sofferenze e che aveva guarito migliaia di bisognosi, dovesse così amaramente morire a Parigi. In silenzio e solo, nessun amico ne era conoscenza e gli dovette supportare tutto il dolore dell'umanità. Ma anche nel morire, Bruno Gröning dimostrò tutta la sua grandezza. Così scrisse in una lettera del 1974 il dottor Belanger. Bruno Gröning era un uomo di cuore, un uomo pregevole che si sapeva affermare e la sua dignità nel momento del dolore e della morte suscita ancora oggi ammirazione. La salma di Bruno Gröning venne cremata a Parigi e l'urna deposta nel cimitero di Dillenburg. Il processo fu annullato. Una sentenza definitiva non venne mai pronunciata, anche se l'avvocato di Bruno Gröning, dopo l'udienza del 22 gennaio, si aspettava che la sentenza del gennaio 1958 venisse revocata. Perché dovettero andare così le cose? Perché dovette terminare così il cammino di Bruno Gröning? Perché non poteva aiutare se stesso? Nel discorso ottenuto davanti ai suoi amici più stretti, il 26 dicembre del 1958, cioè un mese prima di morire, egli disse Così, per liberare definitivamente il cammino, in modo che tutti gli esseri umani potessero riallacciare il contatto con Dio, in maniera che tutti potessero vivere sani e felici, Bruno Gröning fu costretto a vivere anche l'ultima stazione del suo cammino pieno di spine. Doveva succedere così. Non c'era altra possibilità per aiutare gli uomini. Fu l'ultima stazione di una vita che non era stata per niente facile, una vita dichiarata interamente al servizio di Dio e al servizio dell'umanità sofferente, una vita che aveva richiesto tutto da Lui in termini di amore e di servizio. Giustamente, una volta disse Il mio più bel giorno su questa terra sarà quello in cui tornerò a casa, nella magnificenza di Dio. Ma come sarebbe continuata la sua opera? Con il passaggio a miglior vita di Bruno Gröning sarebbe tutto finito? È solo l'inizio. Appena si sparse la notizia della morte di Bruno Gröning, i suoi amici si dispersero velocemente. Ne rimasero solamente alcuni, i più fedeli, da contare sulle dita di una mano. Questi poterono però sperimentare qualcosa di ancor più meraviglioso rispetto a quando Bruno Gröning era ancora in vita, e cioè che le guarigioni continuavano a verificarsi. Successe proprio come lui aveva predetto. Tutti gli uomini devono morire. Anch'io. Il corpo verrà deposto nella terra, ma io non sarò morto. Per chi mi chiamerà, io ci sarò e continuerò ad aiutare. Poi, ciascuno sperimenterà da sé sia l'aiuto che la guarigione. Grete Heisler raccontò una volta di come fu testimone della prima guarigione dopo la morte di Bruno Gröning. La prima guarigione non la scorderò mai, allora abitavo a Duisburg, nel bel mezzo del bacino della Ruhr, al terzo piano. Era nato il mio terzo figlio e allora avevo la fortuna di avere una domestica. Questa signora era cieca a un occhio da ben 14 anni. Ben sei specialisti le avevano diagnosticato che non avrebbe più riacquistato la vista da quell'occhio. Un giorno, mentre spolverava, le cadde il quadro con la fotografia di Bruno Gröning rompendosi. Mi chiamò e quando vidi il vetro in frantumi mi passò per la mente il pensiero di raccontarle di lui e le chiesi «Lo sa chi è questa persona?» «No», rispose lei, «Non lo so, questo è Bruno Gröning», disse io e attraverso lui ho ricevuto delle guarigioni. Lei guardò la fotografia ed esclamò «Che cosa mi sta succedendo?» «Sento come una corrente elettrica che mi sta attraversando il corpo dai piedi alla testa». In quel preciso istante percepì per la prima volta lo Heistrom, la corrente guaritrice e poi io le raccontai di Bruno Gröning e di come l'avevo conosciuto. Alcuni giorni dopo ritornò e disse «Signora Häusler, io vedo questa mattina è uscito del pus dal mio occhio e appena l'ho pulito ho potuto vedere di nuovo tutto». Eravamo così commosse. Prese in mano un libro illustrato e riuscì a leggere sia i caratteri grandi che quelli piccoli dalla finestra poteva guardare lontano fino all'orizzonte. Questa fu la prima grande guarigione dopo il ritorno alla casa del padre di Bruno Gröning. Da allora sono trascorsi molti decenni. Nel frattempo ci sono sparsi su tutta la terra molti amici di Bruno Gröning. Dappertutto avvengono guarigioni e le parole di Bruno Gröning si avverano sempre di più. «La mia risposta a tutti i miei nemici a coloro che mi odiarono quello che furono costretti a fare i miei nemici lo fecero perfettamente e così sono giunti alla fine. Anch'io ho fatto quello che dovevo ma questo è solamente l'inizio». grazie a tutti i miei nemici